Vorrei aiutarci a riflettere stamattina sulla nostra chiamata come seguaci di Gesù Cristo. Qualcuno dice seguaci, qualcuno dice discepoli. Sul nostro quadro abbiamo messo seguaci perché è una parola forse più facile nel modo moderno di capire che discepoli. E' molto importante parlare su questo tema perché c'è molta confusione su questi termini, discepolo, seguace, cristiano. C'è proprio tanta confusione su quello che significa nel mondo oggi essere cristiani. Sapete che due miliardi e mezzo di persone nel mondo si autodefiniscono cristiane? Più di qualsiasi altra religione nel mondo si autodefiniscono. Ovviamente con un numero così grande sappiamo che la maggior parte di queste persone lo definiscono come una cosa culturale, non una cosa di coscienza, non una cosa biblica. La maggior parte di queste persone non ha mai letto la Bibbia e forse non ha nemmeno sentito i versetti della Bibbia, non del mondo, ma di queste persone che si definiscono cristiane. Qualcuno addirittura ha usato il termine, che l'avrete sentito sicuramente, che nel mondo esistono solo cristiani e bestie. E' un po' il gergo comune dire così, per dire che tutti cristiani, almeno qui in Italia, si vorrebbe pensare a questo. La verità è che Gesù, siete pronti? Non cadete dalle vostre sedie, Gesù non ha mai usato il termine cristiani. E sapete chi erano le prime persone a usare il termine cristiani? I primi a chiamare i cristiani con il nome cristiani non erano cristiani. Questo lo scopriamo in Atti 11.26 dove dice Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Prima che dite che comincio qualche dottrina nuova stamattina, non è che sia sbagliato usare il termine cristiano, ma il termine che Gesù usava nei Vangeli era discepoli. Chi era il discepolo? Il discepolo era un termine che veniva usato comunemente nel primo secolo e anche prima per descrivere chi seguiva gli insegnamenti di un maestro, non soltanto nella religione o nella filosofia, ma anche nell'arte, nella scienza. Pensate a Cimabue che ha discepolato Giotto, per dire. Pensate a Socrate, Platone, Aristotele. Poi anche Giovanni Battista ha usato questo termine. I farisei hanno usato questo termine. Ma cosa significa essere un discepolo di Gesù Cristo? Se potessimo riassumere in pochissime parole quello che significa essere un discepolo di Cristo, cosa diremmo? È una cosa che sicuramente ci viene chiesto. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, se non le avete già fatto, a Matteo, capitolo 28, l'ultimo capitolo di Matteo. Matteo, il primo libro del Nuovo Testamento, capitolo 28 è l'ultimo. Quindi se siete arrivati a Marco, siete andati troppo in là. Vorrei leggere per voi, cominciando dal versetto 16, come introduzione, e ci soffermeremo in particolare sui versetti da 18 a 20, nel capitolo 28 di Matteo. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro disegnato, e, vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo, Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Vi devo fare una confessione. Ho fatto molti anni di seminario, scuola biblica, discepolato in casa con due genitori missionari. Ho scoperto una cosa ieri che mi ha sconvolto, che sicuramente tutti voi lo sapevate già. Ero sempre convinto che questo passo di Matteo si svolgesse appena prima che Gesù salisse in cielo. Sicuramente l'ho detto anche su un messaggio. Ero convinto che queste fossero le ultime parole di Gesù sulla terra. C'è un problema. Se leggi il contesto, che avrei dovuto leggere più volte, scopri che questo avvenimento avviene in Galilea, su un monte in Galilea. Invece Gesù da dove è partito? Da un monte vicino a Gerusalemme. Il famoso monte degli olivi. Vicino a un paese che si chiamava Betania, che è proprio di fronte a Gerusalemme. Questo potete leggerlo, se non vi fidate, in Atti 1.12, dove lo dice con chiarezza. Mentre qui non c'è scritto che Gesù poi è salito in cielo. Quindi la conversazione che avremo stamattina avviene in Galilea. Se guardate l'inizio di questo capitolo 28, per un po' di contesto, vediamo che sia gli angeli che Gesù hanno detto a Maria, Maddalena e all'altra Maria, hanno dato queste istruzioni. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Parole di Gesù. Sappiamo poi dagli altri Vangeli che Gesù apparve anche a Gerusalemme, prima di andare in Galilea, ma fu proprio in Galilea che Gesù apparve per 40 giorni a tantissime persone. L'Apostolo Paolo conferma questo in 1 Corinthians 15 che Gesù apparve a più di 500 fratelli in una volta. Gli studiosi sono unanimi sul pensare che fu proprio in questa occasione che noi studieremo oggi che più di 500 fratelli, oltre agli undici, erano raccolti per vedere e sentire Gesù. Ho un'ipotesi che fu proprio su un monte in Galilea lo stesso monte che Gesù diede il suo primo sermone. Vi ricordate il sermone sul monte? All'inizio di Matteo. C'è molta coerenza nell'immaginare che fosse lo stesso monte da cui Gesù ha comunicato il sermone sul monte. Inaugurando il suo ministero. Quindi vediamo che all'inizio e alla fine di Matteo lo stesso monte, lo stesso Gesù un insegnamento molto importante. Fu in Galilea che Gesù ebbe più discepoli durante il suo ministero, è vero? Questo lo vediamo anche scritto nella parola di Dio. E poi possiamo vedere in questo momento che Gesù ha detto ai suoi discepoli rincontrarlo su un monte un monte che loro conoscevano un monte da cui lui avrebbe dettato degli insegnamenti molto importanti. Immaginatevi la scena e maggio. Ricordate che è passata la Pasqua la loro Pasqua non era come la nostra noi seguiamo il calendario pagano grazie a Gregorio Magno mi sembra il Gregoriano. Era a maggio noi siamo stati a Gerusalemme siamo stati in Galilea a maggio e non è come questo maggio che pensiamo di affrontare domani un maggio quasi invernale è caldo mi ricordo che siamo pochi chilometri da questo posto dove Gesù stava per insegnargli delle cose importanti siamo scesi dal pullman era il fiume il fiumiciatolo da dove Gedeone ha raccolto gli uomini per andare poi a combattere dove dovevano fare il test della bevuta siamo scesi dal pullman era talmente caldo che sembrava che c'era qualcuno che ti puntava il phon addosso a maggio ok qui probabilmente era ancora più in là verso forse anche la fine di maggio ma prima di Pentecoste ricordate che Pentecoste erano poi a Gerusalemme la Galilea è in fiore potete immaginarvi questi campi di grano se guardi giù siamo su un monte quindi scendi giù non importa quale monte è ma probabilmente da questo monte si vede il mar di Galilea bellissimo l'ultima volta forse che loro erano su questo monte o almeno la prima volta che erano su questo monte vi ricordate 5.000 persone sfamate in un giorno solo per il miracolo di Gesù e oggi invece sono in 500 forse più un pochino più di 500 persone per noi 500 può sembrare un numero grande immaginatevi 500 persone in questa chiesa i vigili del fuoco ci mandano a casa ma per loro dopo aver visto i 5.000 sicuramente vedere 500 era una cosa un po' forse diversa però non erano scoraggiati perché stavano aspettando Gesù non un Gesù qualsiasi ma Gesù che molti di loro avevano visto crocifisso avevano testimoniato che era morto ma tornato in vita avevano un rapporto diverso con Gesù prima era Gesù che era sempre con loro e adesso Gesù che gli dice di aspettarlo su questo monte dove lui sarebbe venuto da loro tutti gli insegnamenti di Gesù si culminano in questo momento forse l'insegnamento più vitale per la loro fede per il loro andare avanti come discepoli di Gesù guardate come comincia il versetto 18 dice e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo oggi vorremmo guardare insieme in queste parole cosa significa essere un discepolo di Gesù vogliamo pregare signore guidaci stamattina il messaggio di stamattina è talmente importante che è chiamato il grande mandato è talmente importante che chiarisce una volta per tutte cosa significa essere un tuo discepolo cosa siamo chiamati a fare e ti voglio pregare che con le parole stamattina che il tuo spirito ha dettato ha guidato gli uomini a scrivere le parole stesse di Gesù noi possiamo essere veramente fedeli nel adempiere la nostra chiamata di autentici seguaci autentici discepoli veri discepoli di Gesù nel nome di Gesù amè la prima cosa che noi vediamo nel versetto 18 le prime parole che Gesù dà a loro sono queste ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra quindi il punto numero uno stamattina se siete come me che siete pignoli non volete perdervi nemmeno un punto dello schema essere un vero discepolo significa seguire la volontà divina essere un vero discepolo significa seguire la volontà divina Gesù afferma qui il nostro maestro qui afferma che ha piena autorità da Dio Padre lo stesso Dio Padre che l'aveva risorto aveva risuscitato Gesù dalla morte aveva dimostrato tramite questa risurrezione la potenza sua e compito affidato a Gesù l'autorità affidata a Gesù piena autorità qui è molto importante capire una cosa una cosa che viene spesso fraintesa avrete sentito parlare della successione apostolica cioè che in qualche modo i discepoli prendono il posto di Gesù sulla terra ok vi voglio dare una bella notizia Gesù non ha mai abdicato la sua autorità né alla chiesa né a nessun altro pensate a questa successione apostolica che vorrebbe dire che che quando uno si siede sul trono delegato da Gesù può dettare legge come se Gesù fosse morto e non risorto ma Gesù è vivo è ancora il capo della sua chiesa Gesù ha ancora l'autorità perché è vivente Gesù ha ancora l'autorità perché è il nostro Signore Gesù ha ancora l'autorità perché tornerà e regnerà fisicamente su questa terra Gesù ha l'autorità piena da Dio Padre non ha abdicato ma anche l'autorità di Gesù è completa lo dice qua proprio nel testo dice ogni potere mi è dato e se non fosse chiaro ci esprime dove in cielo e ogni potere mi è dato sulla terra potremmo dire che in questo momento Gesù affermava che il regno di Satana era finito come dici il regno di Satana è finito dal momento in cui Gesù ha riscattato l'umanità ha riscattato tutte le persone che lui ha chiamato alla salvezza è come se fosse già finita la guerra anche se c'è ancora da combattere qualche battaglia un pochino come noi abbiamo festeggiato proprio questa settimana il 25 aprile sapete cos'è il 25 aprile c'è un po' di confusione ah vacanza sì ok ma è una vacanza che rappresenta la fine della seconda guerra mondiale ma è una vacanza che rappresenta la fine della seconda guerra mondiale quando non era ancora finita la seconda guerra mondiale in Italia ancora si combatteva ma c'è stato un annuncio il 25 aprile che non c'era più il fascismo che bisognava combattere fino alla morte e sapete in una settimana tutta l'Italia settentrionale il primo maggio era libera pensate un po' così nello stesso modo quando Gesù era qui con i suoi discepoli stava annunciando la fine del regno di Satana ci sono ancora battaglie da combattere ma la guerra è vinta perché Gesù è morto e poi è risorto Gesù non ha mai abdicato abbiamo visto abbiamo visto anche che il nostro maestro qui ci ha dato delle istruzioni molto chiare e qui c'è da dire una cosa che la nostra autorità come seguaci di Cristo come discepoli la nostra autorevolezza forse è meglio dire è direttamente in proporzione a quanto siamo fedeli al messaggio del nostro maestro se noi ci allontaniamo dal messaggio del nostro maestro del nostro signore noi non abbiamo più nessuna autorità più noi riflettiamo con precisione quello che lui ha detto nella sua parola quello che lui ha detto agli apostoli più noi abbiamo autorevolezza nel nostro messaggio noi non abbiamo il diritto di cambiare il messaggio come qualcuno pensa che ci sono molte sette nel mondo che pensano che loro possono cambiare quello che Gesù ha detto qualcuno dice eh l'anno prossimo torna Gesù Gesù non torna ok allora l'anno prossimo come se loro hanno il diritto di decidere ma quello che Gesù ha detto quello che Gesù ha affermato rimane ancora perché Gesù è ancora il nostro salvatore e il nostro signore è ancora vivo e vegeto quindi noi come soldati di Gesù Cristo siamo chiamati semplicemente ad adempire gli ordini che lui detta che lui ha dettato in questi momenti per noi da seguire e non sono cambiati e qual è questo ordine che lui ha dato ai discepoli guardate il versetto 19 ce lo dice molto chiaramente dice andando questa è una traduzione più precisa andando dunque fate i miei discepoli oppure più letteralmente discepolate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo se abbiamo visto che essere un discepolo significa prima di tutto seguire la volontà divina il secondo punto è questo essere un vero discepolo significa fare altri discepoli di Cristo io ho già puntualizzato che la parola qui sarebbe andando perché Gesù vuole mettere tutta l'enfasi non tanto sull'andare ma su quello che lui dirà dopo è ovvio che noi siamo chiamati ad andare andare cosa significa? Significa letteralmente viaggiare siamo chiamati a muoverci siamo quelli della via vi ricordate i primi discepoli dopo la Pentecoste usavano questo termine quelli della via forse ti stai preoccupando che adesso devi fare le valigie andare su qualche paese lontano come missionario forse sì forse no a volte a volte il posto più lontano che noi dobbiamo avere il coraggio di andare è proprio di parlare con i nostri vicini di casa Dio ci ha chiamati ai nostri vicini Dio ci ha chiamati ai nostri parenti Dio poi ci ha chiamato anche nei paesi vicini Dio ci chiama anche ad andare nei paesi lontani posso solo immaginarvi che su questo monte loro potevano vedere sicuramente verso la zona di Damasco verso il sud potevano vedere la Giudea era un monte sicuramente alto e da qui avevano l'idea del fatto che loro erano chiamati di andare a tutti i popoli questo è un avvertimento per noi andare significa che il discepolo vero di Gesù Cristo non ha sicuramente offenderò qualcuno adesso monasteri o conventi il discepolo va il discepolo non si chiude in se stesso per proteggersi per in qualche modo sfuggire dal mondo perché purtroppo i cuori nostri sono malvagi ma noi siamo chiamati ad andare come discepoli andare significa essere in movimento le nostre chiese sono missioni non circoli culturali mi ricordo un detto una citazione di un missionario mi sembra in Cina inglese che lui ha detto io non voglio stare vicino alle campane della chiesa io voglio andare a dieci metri dalle porte dell'inferno noi siamo chiamati ad andare dove le persone hanno bisogno di sentire parlare di Gesù ovviamente la chiesa non è un edificio siamo noi quindi dove i credenti vanno lì è la chiesa lì si possono formare chiese locali andare si mica essere in movimento andare con quale scopo dice qua con lo scopo di discepolare la parola che viene usata qua è un imperativo plurale discepolate è un ordine che Gesù ci sta dando come tutti noi riceviamo l'insegnamento del discepolo così siamo tutti chiamati a fare discepoli se ti stai preoccupando che adesso dovrai andare a fare i tuoi discepoli ti do una buona notizia perché fare discepoli significa fare discepoli di Gesù non nostri perché non dobbiamo fare discepoli nostri perché Gesù è ancora vivo quante volte parliamo di Gesù come se fosse ancora morto facciamo la santa cena come fosse un funerale invece Gesù è vivo è vegeto se noi dovessimo fare i discepoli nostri saremmo veramente nei guai io non ho il coraggio di dire quello che ha detto Paolo seguite me come io seguo Cristo anche se dobbiamo farlo ma l'intesa è che noi puntiamo le persone verso Gesù Cristo il nostro maestro e poi dice qua discepolare tutti i popoli se volete veramente capire come sconfiggere il razzismo come sconfiggere l'omofobia che è la parola un po' che tutti vogliono usare adesso la verità è che il Vangelo è l'unica cosa che può sconfiggere la paura dell'uomo l'odio del diverso il Vangelo vite trasformate comunicare la salvezza in un unico Salvatore Signore Gesù Cristo questo porta la vera unità il vero amore per il diverso per coloro che sono diverse razze e diverse opinioni tutti portati a Cristo come Salvatore e Signore della vita John Piper grande pastore e scrittore ha scritto questo le missioni ci sono perché l'adorazione non c'è lo sapete che un giorno non ci saranno più le missioni un giorno non si evangelizzerà più nessuno perché in quel momento l'adorazione di Dio sarà perfetta adesso forse ti stai dicendo finora abbiamo capito solo che dobbiamo fare discepoli e che abbiamo l'autorità perché Gesù è l'autorità ha ricevuto l'autorità del Padre ma come dobbiamo fare discepoli beh prima di tutto bisognerebbe capire che tutto questo libro è il manuale del discepolo ma il punto numero 3 stamattina viene da questo versetto 19b dove dice battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo numero 3 stamattina essere un vero discepolo significa identificarsi con Dio e aggiungerei alla fine di questo appunto in Cristo identificarsi in Cristo e come noi ci possiamo inizialmente identificare con Cristo tramite le acque del battesimo quando una persona entra in quella vasca la parola battizzo significa semplicemente immergere perché è come se tu sei seppellito e ritorni in vita tu ti identifichi con la morte e con la risurrezione di Gesù Cristo è bello qua che lui porta tutta la trinità nell'opera della salvezza quando dice battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo quindi siamo chiamati prima di tutto a identificarci con Dio Padre chi è Dio Padre è il nostro sovrano è colui che ci ha scelti è colui che ci ha adottati è colui che ha creato un piano perfetto per la nostra salvezza anche al costo della vita del proprio figlio e poi dice che noi ci identifichiamo con Gesù Cristo il figlio Gesù Cristo che ha vissuto sulla terra con noi Gesù che è morto per noi Gesù che è risorto Gesù che è asceso alla destra del Padre come il nostro mediatore è anche Gesù che ritornerà su questa terra e poi ci dice che ci identifichiamo anche con lo Spirito Santo lo Spirito Santo che vive in noi lo Spirito Santo che ci sigilla per il giorno della redenzione lo Spirito Santo che ci rende capaci di servire ci rende capaci anche di evangelizzare lo Spirito Santo che intercede per noi nelle nostre preghiere con sospiri ineffabili perché non siamo capaci di comunicare con il Dio Santissimo ma tramite lo Spirito donato a noi tramite il figlio noi possiamo fare questo e in questi tre nomi in quest'unico Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che noi battezziamo come seguaci di Cristo altri discepoli altri seguaci di Gesù Cristo ma la responsabilità del discepolo non finisce là qualcuno pensa che una volta che è battezzato e finita la pacchia posso fare quello che voglio è vero? ma basta guardare questo testo per vedere che questo è solo l'inizio il battesimo rappresenta quello che Dio ha fatto la nostra fede in Cristo è l'inaugurazione di una vita di servizio per Dio se il battesimo potremmo dire rappresenta l'essere essere in Cristo quello che adesso Gesù ci spiegherà rappresenta il diventare il diventare in Cristo guardate il versetto 20 la prima parte dice insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate punto numero 4 stamattina è che essere un vero discepolo significa tramandare l'ubbidienza l'ubbidienza a chi a Dio a Gesù Cristo il nostro Signore allo Spirito siamo chiamati a passare il testimone prima di tutto la parola di Dio va insegnata ecco perché noi abbiamo classi per i bambini abbiamo classi per gli adulti abbiamo studi biblici nelle case ogni cosa perché la parola di Dio va insegnata noi dobbiamo insegnare quello che Gesù ha detto ma vi voglio dire una cosa che purtroppo molti non capiscono anche che l'enfasi dell'insegnamento di Gesù l'enfasi dell'insegnamento in tutta la Bibbia da Genesi e da Apocalisse non è l'informazione ma è l'ubbidienza basta vedere questo versetto che abbiamo appena letto cosa significa ubbidire ubbidire significa tenersi fermi fermi alla chiamata dobbiamo perseverare dobbiamo portare frutto ubbidire in tutto è vero ubbidire quando è facile ubbidire quando è difficile ubbidire perché ci è comandato dal nostro Signore vogliamo ubbidirlo pienamente ubbidire in ultimo direi proprio che è un atto di fede ubbidire significa che noi crediamo a Dio crediamo che Dio mantiene le promesse crediamo che Dio vuole veramente il nostro bene qualcuno dice che Spurgeon abbia detto non tutti sono d'accordo però la citazione è bella Dio è troppo buono per essere crudele e troppo saggio per sbagliarsi quando noi ubbidiamo a Dio quando noi ubbidiamo ai comandamenti di Gesù noi stiamo affermando la nostra fede nella giustizia e nella bontà di Dio verso di noi adesso nei vostri appunti c'è una bella lettera C e potete scriverci quello che volete perché ho fatto uno sbaglio di taglia in colla quindi potete fare una vostra riflessione e meditazione su quello che avete imparato finora quindi niente C se qualcuno dopo viene a chiedermi cosa c'è per la lettera C niente ok ce l'ho scritto a piacere adesso vogliamo arrivare all'ultima parte dopo che Gesù ci ha ricordato che noi dobbiamo obbedire a tutte le cose che lui ci ha insegnato sicuramente se sei come me dici che questa è una cosa impossibile per noi come? obbedire a tutte le cose che Gesù ci ha insegnato ho parlato una volta con una signora della Bibbia che diceva di essere molto religiosa molto cristiana e io ho detto ma hai letto la Bibbia? eh no la Bibbia è difficile sono arrivata solo fino al sermone sul monte vabbè Gesù ci ha detto che dobbiamo obbedire a tutte le cose che lui ci ha comandate non soltanto al sermone sul monte che tra l'altro penso che se tu obbedisci solo al sermone sul monte c'è molto da dire su questo punto numero 5 leggiamo il versetto dice ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente buona notizia Gesù è ancora con noi punto numero 5 questo essere un vero discepolo significa avere Gesù Cristo sempre vicino ti rendi conto che tu se sei un seguace di Cristo stamattina hai Gesù Cristo sempre vicino a te? pensate al nome di Gesù Gesù è stato chiamato Emmanuel Dio con noi Dio con noi rimane con noi fino alla fine dei tempi ma tu direi ma lui hai detto che è vivo fisicamente ma io non lo vedo e se qualcuno mi dice che ha visto Gesù per strada devo preoccuparmi un pochino ma come Gesù è con noi lui ha detto io vi mando qualcuno che adempirà la mia presenza meglio di quello che io posso fare Gesù era limitato nello spazio è limitato per il suo amore per noi è limitato nel tempo nello spazio adesso davanti al Padre per tre anni anzi per 33 anni sulla terra Gesù ci è vicino tramite chi? lo Spirito Santo Gesù Cristo ci è vicino anche tramite la sua parola quando noi leggiamo la parola di Dio Gesù ci è vicino Gesù Cristo ci è vicino tramite la sua intercessione continua lui pensa sempre ad una cosa a noi a difendere la nostra causa tramite quelle cicatrici che lui ancora tiene per la sua morte sulla croce per i nostri peccati lui è davanti al Padre e quando l'accusatore dei fratelli viene da lui ad accusare perché ancora pensa di poter vincere questa guerra Gesù mostra quei segni e dice io sono morto per Nico sono morto per Franco sono morto per Beatrice per Alessio per Maria per tutti voi per tutti noi Gesù è morto sulla croce per tutti i suoi figli l'ultimo qua dice Gesù Cristo ci è vicino fino a quando? fino al suo ritorno significa che pienamente al corrente della tua vita se tu dici che il tuo peccato sono affari tuoi non è vero prima di tutto ma soprattutto Gesù sa esattamente quello che tu hai nel tuo cuore tutti i affari tuoi se tu sei un figlio di Dio sono affari suoi perché lui è morto per quel peccato significa che Gesù conosce ogni nostra difficoltà significa che Gesù è al corrente di tutte le nostre vittorie e tutte le nostre sconfitte significa che Gesù non ci abbandona mai da duemila anni lui è vicino ai suoi figli significa anche e questo ci dovrebbe fare un pochino di paura che dovremmo rendere conto a lui un giorno quando lui tornerà vi ricordate l'immagine che lui ci ha dato queste parabole bellissime di questi uomini queste donne che queste vergine aspettavano che arrivasse lo sposo per la nozze le nozze dell'agnello questa immagine così forte il padrone che torna ha assegnato dei talenti a diverse persone e un giorno ne vorrà rendere conto l'evangelista americano più famoso di tutti i tempi non era Billy Graham era Dwight Moody che nel 1800 ha scritto questo è meglio addestrare dieci persone che fare il lavoro di dieci persone ma è più difficile siamo tentati di voler fare tutto da noi perché noi abbiamo un'opinione molto alta di noi stessi è molto bassa degli altri la chiamata del discepolo è difficile perché dobbiamo contare l'uno sull'altro per tramandare questo messaggio per tramandare l'opera di Dio vivendolo giorno per giorno ma essere discepoli di Gesù è anche facile perché Gesù l'ha detto ha detto che il mio gioco è leggero Gesù ci chiama semplicemente a seguirlo e che Lui opererà tramite noi riflettendo sulla nostra vita cristiana come chiesa come discepoli vedo che la tentazione è di fare tante belle cose belle e buone ma arrivi alla fine della giornata e veramente ci sono poche cose che veramente sono importanti e più noi seguiamo le istruzioni di Gesù eliminando più cose possibili dalla nostra vita che non c'entrano con questa chiamata più la nostra vita avrà un senso vi ricordo brevemente quali erano questi cinque punti stamattina su cosa significa essere un discepolo vero essere un discepolo vero significa seguire la volontà divina essere un vero discepolo significa fare altri discepoli di Cristo essere un vero discepolo significa identificarsi con Dio in Cristo essere un vero discepolo significa tramandare l'ubbidienza e essere un vero discepolo significa avere Gesù Cristo sempre vicino a noi sapete non basta dire di essere cristiani per esserlo veramente come io posso dire di essere un tavolo ma non lo sono va vissuta la vita da cristiano vi voglio fare un'illustrazione che ho sentito anni fa tanti anni fa veramente di una fabbrica di scarpe immaginati di lavorare in una fabbrica di scarpe in questa fabbrica si sono investiti molti capitali ci sono tanti cartellini timbrati ogni giorno e la meta di questa fabbrica è di fare le scarpe migliori al mondo si pagano gli stipendi si acquistano i macchinari a grande costo si comprano materiali di qualità nella fabbrica lavorano centinaia di operai che corrono avanti indietro vanno avanti a pieno ritmo un giorno arriva l'imprenditore e chiede quante scarpe abbiamo prodotto il dirigente lo guarda scarpe nessuna nessuna ma da quanto tempo siamo in operazione due anni due anni e ancora niente scarpe esatto niente scarpe ma siamo molto occupati infatti siamo stanchi siamo stanchi perché siamo sempre occupati siamo sempre indaffarati siamo molto molto attivi nel nostro lavoro penso che a quel punto qualche dirigente se ne va a casa non ci aspettiamo una fabbrica di scarpe che non fa scarpe ora immagina se fosse una chiesa la nostra chiesa ha tante attività abbiamo il coro abbiamo i gruppi di pulizie abbiamo tante cose facciamo tante belle cose ma alla fine della giornata anche se abbiamo faticato anche se le offerte sono buone lo scopo di questa chiesa come di tutte le chiese di Gesù Cristo è semplicemente una qual è? di fare discepoli quello che ti vorrei incoraggiare stamattina è questo dove stai spendendo il tuo tempo i tuoi soldi per cosa preghi quando ti alzi la mattina e quando vai a letto la sera Gesù ci ha dato una chiamata talmente chiara talmente semplice e abbiamo una responsabilità di far sì che la sua chiamata sia la nostra vocazione preghiamo signore Gesù nostro salvatore signore nostro maestro nostra guida grazie che tu sei vivente e che ci ascolti stamattina grazie che in te che sei presente fisicamente davanti al padre noi abbiamo tutto signore grazie che non ci hai lasciati nella confusione quando te ne sei andato ma ci hai lasciato un messaggio chiaro grazie che ti sei soffermato per quei 40 giorni su questa terra per chiarire la nostra missione signore aiutaci a esserti fedeli ricordandoci che tu sei ancora vivo e che tu ti aspetti grandi cose da noi e ci dai la capacità di farlo per la tua gloria signore aiutaci come chiesa a ricordarci le cose che importano di più le uniche cose che sono veramente importanti cioè di darti gloria facendo discepoli tuoi in tutto il mondo nel nome di Gesù Amen